L'estate sta finendo, cantava Neri Ghera. In questo caso, l'estate sta finendo e non c'è una soluzione all'avvertenza dei 21 operatori delle mezze scolastiche aquilane, gestite dalla vivenda, che a fine aprile scioperarono con un sit-in, anzi la sede del comune. A settembre riparte il nuovo anno scolastico, gli addetti saranno costetti di nuovo a consegnare a mano i pasti, lasciando i furgoni fuori dai cancelli. Un provvedimento, quello di vietare l'ingresso ai mezzi aziendali all'interno dei cortili degli istituti cittadini, assunto da comune e dirigenti dopo la tragedia del 18 maggio 2022, quando un'auto sfrenata ha travolto sei bimbi della scuola dell'infanzia a primo maggio, provocando la morte del piccolo Tommaso. La CGL però non ci sta e vuole dar battaglia. Erano stati promessi dei lavori di messa in sicurezza, infatti, degli edifici scolastici, ma non c'è ombra. Un divieto, quello di accedere ai cortili, che riguarda tutti i mezzi, hanno fatto notare il segretario Filcam CGL Andrea Frasca e l'RSU Daniele Guirani, è un unicum in tutta Italia. Un divieto, che in realtà per i sindacalisti, in nome di una sacrosanta sicurezza per carità, porta disagio di servizi per gli operatori e problemi non solo per quelli delle mense, che devono portare a mano in qualsiasi condizione atmosferica i contenitori, ma anche per gli scuolabus o per chi deve accompagnare alunni e docenti con disabilità. Al momento non esistono deroghe. Un'avvertenza di lavoro bella e buona, che riguarda la salute di 21 lavoratori, che si vedono costretti a carichi in più di lavoro, stipendi part-time che sono rimasti gli stessi. Il Comune però si era impegnato ad effettuare dei sopralluoghi nelle scuole per capire come intervenire. Per ora però tutto tace.